Dopo la guerra, Antonio Ricci trova lavoro come attacchino comunale ma ha bisogno di una bicicletta. La sua viene rubata e la polizia non può fare molto. Con l'aiuto di suo figlio Bruno, Antonio cerca in vari luoghi ma senza successo. Incontra un ladro, ma scappa. Consulta una veggente ma le sue parole non aiutano. Trova di nuovo il ladro ma gli abitanti lo difendono. Antonio tenta di rubare una bicicletta, ma viene fermato dalla folla. Grazie alle lacrime di Bruno, evitano la prigione e si allontanano insieme.